La sezione cittadina dell'ASCOM di Comiso e l'amministrazione comunale hanno intrapreso un percorso sinergico di collaborazione in merito al nuovo bando riguardante il mercato ortofrutticolo. Dopo aver ascoltato la voce dei commissionari hanno convenuto sulla scelta di apportare alcune migliorie al bando e quanto emerso in un incontro tra le parti sulla delicata questione. L'ASCOM da parte sua era rappresentata dal presidente sezionale Salvatore Di Giacomo oltre che dal direttore provinciale Emanuele Brugaletta mentre per la giunta municipale era presente l'assessore con delega al ramo Sandra Sanfilippo. Un avvicinamento tra le parti che fa ben sperare in vista di nuove collaborazioni future. Il tutto ovviamente a tutela degli interessi della categoria, sancito Di Giacomo soddisfatto. Appena il testo passerà dall'amministrazione all'ASCOM si cercherà di capire nello specifico quali le migliorie apportate a detto Di Giacomo con l'auspicio che questo percorso caratterizzato da un proficuo scambio di vedute possa proseguire con la giunta municipale anche in altre circostanze proprio perché convinti che soltanto così si potranno ottenere risultati importanti a vantaggio di tutto il settore del commercio già alle prese con una grave crisi e che quindi ha bisogno della massima attenzione da parte degli enti locali e territoriali. Ha così concluso in una nota il presidente dell'ASCOM Di Giacomo.